Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. Ascoltiamo insieme i principali titoli del nostro telegiornale. E lo avete sentito dal nostro sommario. Apriamo con la cronaca. Rapinavano banche, supermercati e farmacie. Sono state arrestate questa mattina dalla polizia di Reggio Calabria 10 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, per rapina, ricettazione, furto, detenzione e porto di armi da sparo anche clandestine. Dieci ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite alla polizia di Stato di Reggio Calabria nei confronti di altrettante persone residenti nel comune di Rosarno ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, rapina, ricettazione, furto, detenzione e porto di armi da sparo anche clandestine. Le indagini coordinate alla procura della Repubblica di Palmi sono scattate nel marzo 2017 quando sono stati arrestati in flagranza di reato i tre responsabili di una rapina aggravata ai danni di un supermercato. In quell'occasione era stata anche recuperata una pistola con matricola Brasa. Le indagini hanno permesso di individuare i responsabili di altre tre rapine verificate sia nel corso del 2016 e 2017 a danno di banche, supermercati e farmacie nel territorio della Piana di Gioia Tauro ma anche in provincia di Vibo Valencia. Non trattandosi di episodi isolati ma di qualcosa di più ampio è scattata anche l'accusa di associazione per delinquere. Continuiamo con la cronaca. Potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini sul caso di Sissi Trovato Mazza. L'agente di polizia penitenziaria è trovata morta a causa di alcuni colpi di pistola alla testa. Per fare luce sul macabro evento è stata aperta un'inchiesta sul penitenziario Giudecca. Nuova svolta sul caso che riguarda la morte dell'agente di polizia penitenziaria di origini calabresi Sissi Trovato Mazza, morta il 12 gennaio scorso dopo due anni d'agonia a causa di un colpo di pistola alla testa. Il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del carcere femminile veneziano della Giudecca, Francesco Basentini, ha avviato infatti formalmente una serie di accertamenti interni autorizzati dal pubblico ministero per la verifica e l'approfondimento delle segnalazioni e delle denunce che Sissi aveva fatto e di altre questioni di natura amministrativa. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi che ha annunciato in particolare l'istituzione di una commissione ispettiva all'interno del DAP che ha dichiarato «Ci aspettiamo arrivi a conclusione nel più breve tempo possibile, ma comunque entro il mese di febbraio». È stata istituita da qualche giorno, una volta ricevuta l'autorizzazione della procura. A tutti i poteri delle commissioni di indagini, comprese le richieste di documentazione e l'attività ispettiva. I componenti possono fare quello che ritengono opportuno e riferiscono direttamente al capo del Dipartimento, ha concluso. Il sostituto procuratore della Repubblica di Venezia, Elisabetta Spigarelli, ha aperto poi un fascicolo di indagine contro i gnoti per induzione al suicidio. Il padre aveva recentemente rinvenuto una lettera in cui Sissi denunciava di aver saputo di fatti molto gravi avvenuti all'interno del carcere. Le indagini proseguono dunque su più fronti. Si continua ad indagare sulla pista del suicidio, ma anche su quella relativa all'omicidio. A Catanzaro in arrivo 100 nuovi poliziotti per la questura, lo annuncia il capo della polizia Franco Gabrielli, che ieri è stato in Calabria. Il capo della polizia Franco Gabrielli, in occasione dell'apertura della sezione giovanile delle fiamme oro specialità giuda a Catanzaro, ha affermato che nell'ambito della riorganizzazione degli organici di polizia, la questura del capoluogo di regione è stata mantenuta in prima fascia e verrà incrementata di altri 100 poliziotti. Nel nostro paese c'è stata una stagione nella quale si è detto, si è scritto, si è sottolineato che i poliziotti e i carabinieri erano troppi. Io vi invito, visto che voi siete professionisti dell'informazione, andatevi a riprendere quello che si scriveva all'inizio degli anni 2000 quando si diceva che in Italia noi eravamo il paese europeo con il rapporto cittadini operatori della sicurezza più alta d'Europa. Peccato che noi avevamo le quattro mafie più pervasive, peccato che avevamo avuto un terrorismo interno che nessun altro paese europeo aveva avuto, peccato che, e questo lo dico senza voler arrecare nessun tipo di giudizio, siamo un po' poco calvinisti, nel senso che la legge morale non è dentro di noi ma è fuori di noi e quindi ci vuole qualcuno ogni tanto che ci ricordi che la legge va rispettata. Ecco perché in questo paese le forze di polizia avevano una certa consistenza. Nella stagione della finanza creativa, nella stagione dei tagli lineari si è bloccato il turnover. E cosa significa bloccato il turnover? Vuol dire che quando andava in pensione qualcuno non si sostituiva e tutto questo ci ha consegnato una polizia che doveva essere 117 mila unità e oggi è 98 mila unità, ma la cosa più preoccupante con una media altissima. Noi nelle questure veleggiamo tra 49 e 52 anni e questa è la prima verità che non possiamo dimenticarci perché i guasti che si sono prodotti con il blocco del turnover ci vorranno anni per colmarli sulla quale anche qui non ci vuole la zingara. Siccome la stragrande maggioranza degli arruolamenti è avvenuta negli anni 80 e siccome il ciclo della vita professionale anche qui non ci vuole la zingara mediamente a 60 anni si va in pensione e siccome la matematica non è un'opinione da quest'anno al 2030, che non è da qui a 50 anni, ma in questo decennio nella mia amministrazione se ne andranno in pensione 40 mila persone. Quindi noi dobbiamo recuperare il gap del turnover del blocco del turnover e le persone che vanno in pensione. Parliamo di politica terminata la corsa DEM per il congresso 2019 che darà l'accesso alle primarie del 3 marzo i dati non sono ancora quelli ufficiali ma il bilancio è ormai chiaro. Passano Zingaretti, Martina e Giacchetti non ce l'ha fatta la calabrese Maria Saladino. Non ce l'ha fatta la calabrese Maria Saladino a collocarsi nelle prime tre posizioni che in buona sostanza valgono l'accesso alle primarie del prossimo 3 marzo. La giovane originaria di Castrovillari si è classificata al quinto posto con 1.332 preferenze, ovvero lo 0,71%. Per quanto concerne i risultati a livello nazionale sia pur ufficiosi, sono oltre 189 mila gli iscritti del PD che hanno votato nei circoli per il congresso DEM sugli oltre 374 mila venti diritto, ovvero il 50,43%. I circoli in cui si sono svolti i congressi sono stati 5.693. In testa, in questa prima fase, è Nicola Zingaretti con 89.987 preferenze, pari al 47,95%. Poi Maurizio Martina con 68.548 preferenze e il 36,53%. A seguire Roberto Giacchetti con l'11,23%, Francesco Boccia con il 2,91%, come detto Maria Saladino e infine Dario Corallo. Parliamo di crisi agrumicola. Il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha presentato una interpellanza al ministro Centinaio per discutere della difficoltà nella vendita di clementine nella piana di Rosarno. E Gioia Tauro. Agricoltura in ginocchio nella piana e a Rosarno. I tanti agrumicoltori non riescono più a vendere le loro clementine. Nei giorni scorsi il problema era stato sollevato dal sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, il quale aveva chiesto per la seconda volta un incontro con il ministro dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio, per avviare un tavolo insieme alle associazioni di categoria, gli operatori del settore, i sindaci e le parti sociali, per risolvere il grave problema. Ora arriva l'interpellanza del deputato azzurro, Francesco Cannizzaro, indirizzata al ministro. La crisi, spiega il deputato di Forza Italia, dipende principalmente dalla concorrenza azreale di alcuni paesi dell'Africa settentrionale e della Spagna, che immette sul mercato clementine proveniente dai paesi del Maghreb a costi stracciati e di bassa qualità. Gli agrumi coltivati in Africa spuntano prezzi di mercato notevolmente più bassi rispetto a quelli calabresi e in generale a quelli italiani, anche per via dell'utilizzo di pesticidi illegali in tutta l'Unione Europea e grazie al costo di manodopera assolutamente inferiore. Alla luce di questa situazione che sta portando sull'astrico migliaia di famiglie, dopo il grido d'allarme lanciato dai sindaci del territorio, sostiene il deputato azzurro, chiediamo che vengano assunte iniziative a difesa del comparto, in questione incrementando le risorse del fondo agrumicolo previsto nella legge di stabilità 2018, chiediamo inoltre, prosegue il parlamentare, che vengano attivate iniziative urgenti per incrementare controlli e indagini capillari al fine di evitare frodi e false denominazioni di provenienza e per testare l'aderenza degli agrumi in ingresso sul territorio nazionale ai criteri di qualità richiesti dall'Unione Europea. Anche la Calabria tra le regioni più colpite d'Italia dal virus influenzale. Ora sentiamo i dati del bollettino InfluNet in questo servizio. Anche la Calabria tra le regioni più colpite dall'influenza, che insieme al Trentino, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania, solo nella scorsa settimana ha subito un brusco aumento. Il virus infatti ha costretto a letto 725 mila italiani e ben 3,6 milioni da inizio stagione. Ad aggiornare i dati, il bollettino settimanale di sorveglianza epidemiologica InfluNet a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui si sottolinea che ci si avvicina al picco epidemico stagionale. Nella quarta settimana del 2019 il livello di incidenza in Italia è stato pari circa a 12 casi per mille assistiti, soprattutto nella fascia di età pediatrica. Sotto i 5 anni infatti l'incidenza è passata da 28 a 37 casi per mille assistiti nell'ultima settimana. E passiamo alla pagina sportiva sconfitta a Mondovì per la Conad-Lamezia. Parliamo di volley a due, la squadra calabrese cede 3 a 0 contro la prima della classe. Era una gara sulla carta proibitiva e così è stato. Troppo più forte la capolista per la Conad-Lamezia in quello che è il più classico dei testa-coda. Sul difficile campo di Mondovì la squadra di riga non riesce a benfigurare solo nel secondo e nel terzo parziale, cedendo quasi di schianto invece nel primo set. La gara come detto non ha avuto storia e i padroni di casa l'hanno condotta fin da subito. Un primo break ha condizionato l'andamento del primo set, terminato 25-15, ma anche nei successivi parziali Lamezia, pur riuscendo a stare maggiormente a contatto, nulla ha potuto contro il maggior tasso tecnico dei rivali. I piemontesi toccano così quota 42 in classifica, sempre più in testa, mentre quelli dei Lamettini restano 8 in coda. Ma ora arrivano gli scontri diretti che saranno a dir poco fondamentali per la Conad. Le prossime gare contro Alessano e Leverano e poi quella contro Roma saranno decisive per provare a restare in Serie A2. Ed anche per questa edizione è tutto. Io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it e vi aspetto alla prossima edizione delle 19.30.